Ciao e benvenuto, nel video di oggi andiamo a recensire il libro Airbnb Business. Eccomi qui amici, scusate sono stato un po' assente su questo canale, mille robe, sto cercando di spingere per far arrivare a 100.000 iscritti anche il canale dedicato al mondo del pianoforte, quindi insomma momenti un po' così. Comunque veniamo a noi, oggi è un momento su YouTube, i vari canali di guadagno online eccetera, ci sono le mode, c'era la moda di Amazon FBA, non so se ti ricordo di tutti che parlano di Amazon FBA, adesso è la moda del business con Airbnb. Ora, io ho sempre pensato che con la stessa quantità di energie e di investimento in soldi, investendoli nel digitale che anziché nel fisico, tu potessi ottenere molto di più e sono ancora convinto che questo è assolutamente vero. Però se uno dice voglio arrotondare qualcosa, allora mi sono iniziato ad informare e a me piace sempre informarmi da chi le cose le fa, ottiene i risultati e poi te le insegna, non da quelli che te le insegnano. Dici ma questo da dove è sbuccato che mi insegna le cose che magari non le fa neanche lui, no? E quindi così, da diverso tempo, conosco da diverso tempo e ho tra gli amici su Facebook il buon Valerio Novelli che è autore di questo libro, aspetta che te lo inquadro, lo trovi su Amazon e tra l'altro è un pianista anche lui, laureato in pianoforte. Com'è possibile che tutti questi pianisti hanno questa grande passione per l'online marketing? Non si sa. E fatto sta che appunto avendolo tra gli amici su Facebook, già dal 2019, ma molto molto prima, ho visto che si metteva le foto di lui che stava ristrutturando casa e se anche questa camera l'abbiamo finita, e dicevo, vabbè, bravo, bravo, si fa tutti questi lavori. E poi, solo leggendo questo libro, che l'ha messo qualche giorno fa su Facebook, ragazzi, ho pubblicato il mio libro Airbnb Business e l'ho detto, c'è che lo ordino da Amazon, perché? Perché so che lui era Dani che stava ristrutturando per mettere in affitto e quindi quale cosa più preziosa di un libricino fatta da qualcuno che fa questa roba qui, che ottiene risultati e che ti dici in un libricino tutto quello che dovresti sapere, che magari con la tua esperienza ci metteresti 3-4 anni per impararlo e oltre a spendere e buttare via una valanga di soldi. Allora, per prima cosa, per chi è questo libro e per chi non è? A mio modesto parere il libro è per chi ha già un immobile e deve capire che cosa farne. Allora, se tu hai già un immobile, magari lo metti già in affitto, oppure stai pensando di affittarlo, prendi il libro, sicuramente troverai tante nozioni, cioè saprai passo per passo come fare senza sbagliare. Il libro non è per coloro che non hanno casa, non hanno possibilità di acquistare casa e oppure sono lì che dicono ma se io, perché? No, perché se fai un investimento sbagliato, poi sono cavoli tuoi. Quindi, partiamo subito da questo presupposto. Ma, mettiamo caso che tu abbia una casa, l'hai ereditata, non sai che cosa farne, è lì vuota, abbandonata, allora sicuramente potresti provare, anziché fare un classico affitto italiano 4 anni più 4 anni, potresti provare a metterla su Airbnb. Allora, questo libro è sicuramente fa il caso tuo. Che cosa mi è piaciuto di questo libro? A me piace sempre leggere le esperienze personali, cioè il vissuto di una persona. E qui lui, Valerio, appunto racconta già nell'introduzione di come ha messo in piedi, quali sono stati i lavori che ha fatto di ristrutturazione, eccetera, per mettere in affitto questo appartamento a Palermo. E la cosa interessante che lui dice subito è, secondo me, per come l'avevo arredato, per come l'avevo fatto, tutti i comfort che avevo messo all'interno di quell'appartamento, il costo era di 70 euro a notte. Però poi si è confrontato col mercato e lui dice, il prezzo non dovete farlo voi in base a quanto vale secondo voi, perché se alla fine tu lo metti a 70 euro e non te lo prenota nessuno, tanto vale. Dice, il prezzo alla fine lo fa il mercato. E lui dice, quindi ho tirato giù un pochettino e subito sono iniziati ad avere le prenotazioni. E cosa che ho imparato da questo libro è, tu puoi affittare il tuo appartamento massimo 30 giorni in un mese. Se dei giorni ci sono dei buchi, sono delle perdite che lui ha quantificato come una quindicina di euro al giorno, perché ci sono spese di pulizie, poi c'è l'abbonamento a internet, c'è i costi, c'è una serie di costi che sono circa 15 euro al giorno. Quindi lui dice, meglio piuttosto fare un'offerta, metterlo a un determinato prezzo un po' più basso, ma che il tuo appartamento o la tua camera sia sempre piena, piuttosto che avere dei buchi. E questo è molto molto interessante. Altro capitolo dove l'ho letto in treno, altro capitolo che mi ha fatto veramente scompisciare è preparatevi agli ospiti. Ora, io ho usufruito come lato cliente di Airbnb, quindi a volte anziché andare in hotel, sono andato da privati che avevano delle camere o degli appartamenti a disposizione. E a volte leggevo delle cose. Per esempio, in quest'ultimo che sono andato a Napoli, c'era scritto sullo scaldabagno aspettare un po' prima che arrivi l'acqua calda perché ci mette un po'. C'era bisogno veramente di scrivere una cosa di questo tipo. E poi mi sono reso conto, soprattutto leggendo questo libro qui, che tu hai a che fare anche, soprattutto, con gli stranieri. Soprattutto se il tuo appartamento o la tua camera si trova in un posto turistico, nelle vicinanze, per esempio, dove abito io nelle vicinanze con un aeroporto, robe varie. Quindi potresti avere a che fare con gli stranieri. E gli stranieri hanno modi e costumi diversi dai nostri. Magari io sono abituato, per esempio, lui diceva sono rimasto sconvolto dei francesi che lasciano le padelle sporche d'olio dentro i cassetti, pensando di farti una cortesia perché in Francia la padella per preparare le omelette non si deve lavare. Cioè, cose di questo tipo. Oppure... Ah, ecco, ecco. Turisti che non sanno letteralmente come aprire la porta di casa, quindi lui aveva messo, aveva speso investimenti per fare questa porta blindata, del strassicuro, e poi questa porta blindata, che magari per noi italiani è semplice da aprire, per gli stranieri non lo è. Quindi ripaga per mettere la serratura più easy e base che c'è, e a questo punto nessuno lo chiamava più alle due di notte perché non riusciva ad entrare. Oppure gruppi di amiche americane che si facevano tutte lo shampoo allo stesso momento, e poi usavano tutte il phon una dopo l'altro per dieci minuti a testa, e poi mi chiamavano in nottata per dire che il phon non funzionava, grazie al Kaiser si è surriscaldato, cose che succedono se lo usi troppo. Cioè ci sono una serie di cose, e queste sono veramente esperienze di vita vissuta, che ti fanno capire che non è tutto il rose e fiori, ah prendo l'appartamentino, lo metto in affitto, ma devi veramente stare dietro a queste persone, devi avere una persona che ti fa le pulizie, magari in un primo momento puoi farlo tutto tu, ma ci sono tante cose da fare, devi fare l'accoglienza, devi fare il check-in, devi fare il check-out, poi devi chiedere i dati a quelli, e quindi alcuni non ti vogliono mostrare la carta di credito, perché magari pensano che poi grazie a quella li puoi rubare tutti i soldi in banca, insomma c'è una serie di ostacoli e di attriti che vanno superati, e qui c'è tutta la sua esperienza, e ha spiegato il buon Valerio anche come ha fatto lui a, per esempio a rendere più automatiche alcune cose, non so se ti sarà capitato di vedere che oggi esistono alcune serrature automatiche, dove tu dai il PIN, e questo PIN lo puoi cambiare ogni volta, e dai il PIN al cliente che entrerà nel tuo appartamento, e tu non hai neanche bisogno di essere lì ad accoglierlo in quel momento, metti caso che lui arriva alle 11 di sera e tu alle 11 vuoi dormire, gli dai il PIN, lui basta che digita quello al momento giusto, e si va, e quindi poi non ti deve neanche restituire le chiavi e altre rotture, rotture varie, quindi veramente è un bel libro. Poi c'è il capitolo dedicato alle recensioni, e noi sappiamo che oggi le recensioni sono tutto, e chiaramente chi non è nel mondo delle recensioni non sa come funzionano, io sono nel mondo delle recensioni perché ho diversi libri su Amazon, pubblicati e autopubblicati, tra l'altro all'interno del mio corso Book Empire che trovi qui, ti faccio vedere, ti do tutta la mia esperienza su come funziona questo tipo di business, e le recensioni sono tutto. Ora, quello che tu devi fare quando ti metti sul mercato e vendi un qualcosa, vendi un prodotto, vendi un servizio, è quello di cercare sempre di dare il massimo, ma dare ancora di più. Perché? Perché le persone sono esigenti, le persone sembra sempre che spendono troppo per quello che gli dai, quindi tu devi sovradargli la qualità. Quando io creo un libro, non creo il libricino da 80 pagine, io ti do il libro da 300 pagine, più ti do all'interno un videocorso gratuito, più ti do due ore di audio da scaricare, e più ti do altri bonus. Così sei obbligato a darmi la tua recensione a 5 stelle, perché basta solo una recensione a 3 stelle, sì, libro normale, oppure una recensione a 2 stelle, perché poi ci sono anche gli imbecilli che, gli arriva a casa il libro piegato, e ti scrivono, mi è arrivato il libro a casa piegato, e ti danno una stella, come se fosse colpa tua, tuo autore che colpa ne ha in tutto ciò. Quindi devi prevedere queste cose, devi prevedere che ti arriveranno comunque recensioni negative a caso, ti arriveranno recensioni negative da competitor, e quindi tu devi cercare con la tua qualità, del tuo lavoro, del libro, nel caso del self-publishing, o nel caso di Airbnb, devi cercare di dare il meglio, quindi di organizzare al massimo il tuo appartamento. Lui dice, una delle cose più importanti, è sicuramente il wifi, se tu non metti un wifi potente, iniziano a pioversi una serie di recensioni negative, e se inizi a avere delle recensioni negative, questo significa che tu non avrai più prenotazioni, non avere prenotazioni significa fallire. E attenzione, perché è un'altra cosa che ho scoperto sempre in questo libricino, è che tu quando crei il tuo primo annuncio su Airbnb, Airbnb ti dà molta visibilità, esce fuori scritto annuncio nuovo, ti dà visibilità, e quindi tu lì ti giochi tutto, non ti devi bruciare, perché se inizi a fare le prime prenotazioni, e inizi a bruciarti, e la gente dice, mi sono trovato male, hai finito di campare. Con le prime prenotazioni devi stupire, devi avere recensioni di gente che dice, ah, questo appartamentino mi è costato poco, c'era veramente dentro tutto, ho trovato dentro anche dei succhi di frutta gratuiti, che potevo utilizzare, ho trovato tutti i comfort, ho potuto condirmi anche l'insalata, perché c'erano anche i condimenti, mi sono trovato benissimo, e ti lascio una buona recensione. Chiaramente puoi indurre la recensione, puoi dire, puoi mandare un messaggino al cliente, e dirgli, guarda, se ti sei trovato bene, mi farebbe piacere una recensione. Quindi, c'è tutta la parte sulle recensioni, come preparare un immobile per Airbnb, e qui tutte le cose, i consigli per il climatizzatore, le pompe di calore, è il fatto che se sei in estate, devi accenderli prima l'aria condizionato, perché sennò lui entra e trova 30 gradi, e quindi dici, mazza che è caldo, ti fa recensione negativa, quindi devi andare a accenderli almeno due ore prima. Quindi, tutte queste accortezze che, se non hai presente, se non l'hai mai fatto, difficili che ti vengono in mente, invece qui c'è veramente l'esperienza di uno che fa questa roba qui, quindi, veramente è geniale. Ripeto, per uno che non ha la possibilità di investire, e sta pensando di farlo, magari direi di no, perché manca una parte molto, molto vasta e importante sull'analisi di mercato. Quindi lui, qui è un più, ti racconto la mia esperienza, ti dico che ho fatto questo, 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 nella mia zona, e ha funzionato, però, se tu sei a Parma, se tu sei a, chi ne so, da qualsiasi altra parte, non si sa, l'analisi di mercato la devi fare tu, e qui, diciamo, non c'è scritto molto su quel lato lì, e più, un'esperienza, ti racconto quello che ha funzionato, quello che non funziona, poi ti dice, come fare l'annuncio, e chiaramente, come riuscire ad aumentare le prenotazioni, come la descrizione corretta dell'annuncio, eccetera, 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 bene, io spero, con questo piccolo video, di esserti stato d'aiuto, questo, piccolo libricino, io penso che sia un piccolo gioiellino, è piccolo, più piccolo dei formati a 5, forse un formato a 6, lo si, lo leggi in un'ora e mezza, però ha dei contenuti veramente carini, per il costo che l'ho comprato, e per quello che c'è dentro, cioè l'esperienza di uno che fa questa cosa qui, da anni, io penso che veramente ne valga la pena, quindi, se hai un appartamento da affittare, cioè, oppure ti sei rotto le balle di fare il classico tipo di affitto, ma vuoi provare ad affittarlo a breve termine su Airbnb, sicuramente questo libro può fare al caso tuo, grazie per aver visto tutto il video fino a qui, noi ci vediamo alla prossima, un caro saluto, ciao!